E bentornati cari ascoltatori della Rosso in Cuore, io sono Luis e io Matteo Siamo Ferrari Formula 1 della Rosso in Cuore, come sempre sotto il video tutti i link per servici sui social E la campanellina per essere aggiornati sui nuovi video Allora ragazzi, finalmente siamo tornati, sono molto contento, questo mondiale è iniziato anche nel modo molto più positivo per la nostra cara scuderia Ferrari Esatto, siamo tornati come ha detto il collega, siamo passati diversi mesi, siamo stati anche un po' assenti per impegni vari E anche per organizzare tutto quanto in vista di questo video Esatto, la prima cosa che abbiamo organizzato per voi, vi abbiamo fatto vedere su Instagram anche la nuova presentazione, il nuovo cambiamento che avrà il nostro team Esatto, la nostra immagine Quindi bando alle ciance, vi facciamo vedere subito lo sketch della nuova presentazione per la nostra maglietta della Rosso in Cuore Vai col video! Esatto, la nostra immagine Eccoci qua ragazzi, speriamo che la maglietta vi sia piaciuta, anche lo sketch è un po' abbastanza simpatico Queste sono le... Aspetta che c'è un problema, siamo rimasti un po' a dicembre forse Torniamo subito Ah, che freschezza Meno male, siamo ritornati alla normalità Bene ragazzi, queste sono le nostre nuove magliette, come vedete c'è il Bentornati, cari ascoltatori E dietro abbiamo i nostri rispettivi nomi, quindi Matteo, Luis e Matteo Non dimentichiamolo Dimentichiamolo Il nome E ovviamente il logo L'ufficiale della pagina di Facebook è il nostro ovviamente logo Durante la stagione di fronte a uno probabilmente faremo anche dei concorsi, qualcosa per poterne vincere una o due per voi ascoltatori So che molti la vogliono e sono piaciute tantissimo Esatto, potrà essere anche personalizzata Esatto, ma adesso mettendo da parte un attimo il nostro canale, la nostra cara pagina, iniziamo finalmente a parlare di Formula 1 Esatto, cominciamo a parlare di un mondiale che è iniziato strepitosamente Ci ha lasciato anche diversi interpreti Perché comunque si è finiti nel 2021 con Hamilton Verstappen E anche con diverse tensioni all'interno dei due team E si è reiniziati però con altri piloti Quindi in tre mesi l'era della Formula 1 è cambiata Non parleremo dei Gran Premi in sé Abbiamo deciso di fare una specie di flop e top del Gran Premio di Ghedda e soprattutto del Bahrain Quindi un inizio, un riassunto abbastanza breve Sfruttando appunto la settimana che non c'è Formula 1 aspettando quel dell'Australia Esatto Quest'anno come sappiamo tutti il cambiamento del regolamento è completamente devastato Si Si è parlato tantissimo di questo 2022 Tornano le monoposto a effetto suolo che si utilizzavano negli anni 80 e 90 Si devo dire molto approvate dal pubblico, dai tifosi, dagli addetti ai lavori Macchine molto belle dal punto di vista estetico E anche leggermente più lente Però comunque vedo che anche con gli sviluppi Queste nuove macchine tendono ad avere gli stessi tempi degli anni passati È vero, è vero, durante i test o anche prima delle presentazioni si presumiva una lentezza tra i 4 e i 5 secondi addirittura Invece siamo arrivati in Bahrain che rispetto alla proposition di Verstappen l'anno scorso Leclerc è arrivato quasi un secondo, un secondo e mezzo Esatto, sembra quasi non cambiato nulla Esatto Queste vetture a effetto suolo ovviamente Non stiamo a spiegarvi il tutto Seguiteci su Instagram, li abbiamo fatto tutti i nostri rassunti Sono vetture che sono state costruite appunto per cercare di buttare via dietro aria meno sporca Come quelle dell'anno scorso E questa cosa l'hanno notato moltissimo i piloti durante i test Anche Science ad esempio è uno dei primi A dire che aspita riesco a sentire di più l'aria pulita E a raggiungere più velocemente il pilota che mi sta davanti Esatto, una cosa positiva di questo mondiale E che vedremo molti combattimenti sia davanti che nelle retrovie Appunto per questa novità Che ovviamente i piloti riusciranno a battagliare sempre di più Non avendo appunto questo problema dell'aerodinamica Parlando in breve di che cos'è l'effetto suolo Praticamente è un sistema che risucchia la macchina verso terra Esatto Questo la mantiene completamente asfaltata su Sì, più o meno l'effetto che dava l'aerodinamica dell'anno scorso molto più elaborata Esattamente, quindi senza ali, macchine molto pulite Le avete notate quindi due o tre premi Abbiamo capito perfettamente come funziona L'unico problema di questa stagione Di fatti delle macchine a effetto suolo Sono i cordoli alti Come abbiamo potuto imparare nelle prime due gare Un eventuale sobbalzamento della macchina Tende a far passare troppa aria sotto E quindi perdere il controllo della vettura Questo ovviamente Le piste durante il mondiale si adegueranno Al fatto di abbassare ulteriormente i cordoli Per evitare questo problema Un altro problema dell'effetto suolo È il famoso porpoising Che si è proposto durante i test Questa specie di sobbalzo violento delle vetture Questo problema si presenta soprattutto ad alta velocità Adesso per riassumervi anche questo in breve È una perdita di aerodinamica improvvisa della vettura E praticamente quando la macchina viene risucchiata verso terra L'aria passa molto velocemente E poi la macchina ovviamente risalta su Quindi è una specie di risucchio ventosa Sì esatto Questa cosa fa oscillare molto il fondo ovviamente Creando una specie di Non so io tempo fa ho parlato con un nostro follower Gli ho detto che è una specie di alada Questa novità, questo problema se possiamo dire così Tende a far produrre molte scintille Come vediamo anche nel caso di Red Bull Sui rettilinei E ovviamente perdere un pochettino di velocità Si sta cercando di risolvere questo problema Anche se non sarà mai risolto al 100% Credo perché hanno detto pure i tecnici Che è un effetto normalissimo Delle macchine effetto suolo Prima di parlare dei top e flop Facciamo un leggero passo indietro Si è parlato tantissimo Soprattutto nel 2020 e 2021 Del nuovo 2022 Questi nuovi regolamenti Che sarebbe stata la macchina dell'anno E fino adesso Le parole di Binotto Sono risultate positive e veritiere La scuderia Ferrari inizia con una fantastica doppietta Aiutata ovviamente ai problemi di Red Bull Ma comunque il top si è raggiunto Si è raggiunto Esatto La Ferrari ha avuto l'obiettivo di fare appunto E costruire una macchina competitiva Per i due piloti Sainz e Leclerc E cercare di portare avanti una stagione Ovviamente non fallimentare come le altre E cercare di mantenere comunque sempre il podio Qualche volta la vittoria E avere una macchina comunque all'altezza Della Red Bull in questo momento Nelle prime due gare hanno dato segni positivi Dobbiamo aspettare ancora qualche gran premio Come hanno detto ovviamente in Ferrari Per vedere quali sono le reali forze in campo Però comunque l'inizio di stagione Che ha fatto esultare parecchi tifosi In Italia e a Maranello E si prospetta una stagione Davvero divertente E riassumendo un po' Bahrain e Ghedda Si può dire che la Ferrari Abbia una vettura molto equilibrata Si dice Perché il rettilineo sfrutta una bella alta velocità Mentre nelle curve È una vettura molto ben assettata A Ghedda un po' la velocità di punta È stata sacrificata per sfruttare ovviamente Tutti i settori Tutti i curboni veloci Esatto E la differenza si è notata appunto con Red Bull Che invece ha sacrificato un po' di aerodinamica Per sfruttare i rettilinei Iniziamo con i nostri top e flop Top e flop Come top non si può non mettere appunto In prima posizione la Ferrari Perché comunque rispetto alle scorse stagioni Ha fatto il salto di qualità E finalmente è una macchina competitiva In grado di vincere E ovviamente la Red Bull Perché comunque è sempre una scuderia La scuderia da battere Avendo vinto l'anno scorso con Verstappen E ovviamente grazie anche agli sviluppi Durante la stagione potrebbe diventare un osso veramente duro Per arrivare alla vittoria del campionato Tra i top abbiamo messo anche nelle retrovie Una scuderia che quest'anno ha veramente fatto il colpaccio Che è la Haas ovviamente Iniziato in modo un po' particolare la sua stagione Con il povero Mazepin Per i problemi che ci sono in Russia e in Ucraina E prendo una parentesi su questa cosa Secondo me mettere a rischio O mettere contro anche i piloti O lo sport all'interno di guerra Non è molto giusto Però comunque la Haas ha dovuto fare delle scelte importanti E ha portato con sé Kevin Magnussen Che ovviamente non si aspettava un ritorno così E si è fatto vedere ovviamente in grande stile Sì, Gunther Steiner che è il team principal Lo ha rivoluto in squadra dall'anno scorso Ha dimostrato di essere comunque un ottimo pilota E la Haas oltre al motore Ferrari Che ha fatto uno step di miglioramento Lo si vede, il super fast comunque è notevole La scuderia ha dimostrato che comunque era in grande difficoltà nei test La macchina sembrava anche quasi inguidabile Poi comunque hanno fatto questi giorni ulteriori Per cercare di sviluppare un po' la vettura E si è arrivati alle prime due gare con il team Haas Abbastanza competitivo, devo dire Mick forse ha bisogno ancora un po' di esperienza E di sfruttare meglio questa vettura Come ha fatto Kevin Magnussen Ovviamente Magnussen è più esperto Quindi è molto positivo anche la scelta che ha fatto Steiner Per questo team Povero Mick che poi ha, come sappiamo, a Ghedda Ha avuto un brutto incidente perdendo la vettura Non partecipando appunto alla gara Non partecipando alla gran premio Sta bene comunque il pilota Ritornerà sicuramente per il gran premio d'Australia Sì, il secondo top è Red Bull Che ovviamente è una scuderia Ovviamente in grado di vincere questo mondiale Se la lotterà fino all'ultimo con Ferrari Ed eventualmente Mercedes si ritornerà Con ovviamente Max Verstappen e Sergio Perez Dove ovviamente le divisioni di caposquadra Sono ben delineate E Red Bull che ha portato anche diverse soluzioni Tra Shakira e Jed Aerodinamiche ovviamente nel posteriore Cercando di arrivare a uno step di miglioramento in più Gara dopo gara Prima gara in Bahrain Non troppo felice Per la scuderia Un doppio zero Sia di Perez che di Verstappen Non ce lo si aspettava ovviamente dalla scuderia E problemi appunto di affidabilità Che devono migliorare Devono valutare cosa sono Anche ad esempio in Alfa Tauri Che hanno lo stesso più o meno motorista Sono successe delle cose simili Quindi ovviamente l'affidabilità in questo campionato Essendoci molte gare in programma Risulta fondamentale E avendo solo tre motori a disposizione L'affidabilità è uno dei temi più importanti Poi ragazzi questi secondo noi sono i top Parlando invece dei flop Sì Ovviamente non possiamo non parlare di Mercedes Che passando da campione del mondo Si è ribaltata la situazione Cioè si sta ribaltando la situazione In soli tre mesi In soli tre mesi Prendendo il posto di Ferrari dell'anno scorso Esatto Sì Stava facendo un po' le gare di Ferrari Nel 2021 Mercedes che ha portato soluzioni mai viste prima In pratica non ha pance Si può dire così Macchina molto stretta E come si è visto anche nell'ultimo Gran Premio Ovviamente ci sono stati dei problemi seri Sulla macchina di Hamilton Perché comunque non si poteva scusare Il distacco con Russell Sì nel Gran Premio di Ghedda Hamilton non è riuscito in nessun modo A trovare un buon setup Cosa che invece Russell ha fatto Tra l'altro è partito anche in Q3 Quindi Russell si è abituato molto più in fretta a questa vettura Un altro flop Ma davvero flop È stato quello della McLaren Che era una scuderia in lotta con Ferrari l'anno scorso Per il terzo posto Costruttori E ora si è ritrovata nelle prime due gare Sì con un buon posto di Norris a Jedda Quindi ha portato anche diversi punti Però con un inizio di stagione veramente disastroso Nei test si era vista una macchina neanche troppo male È abbastanza guidabile Non troppo competitiva ma comunque sui buoni livelli Però abbiamo visto i risultati sia di Ricciardo Che ovviamente è stato anche fermo per il Covid Non ha potuto girare troppo E comunque un team McLaren che si è ritrovato veramente nelle retrovie Facendo un passo indietro e parlando appunto di test McLaren si è vista molto competitiva appunto a Barcellona Ma hanno avuto molti problemi ai freni Sul riscaldamento Hanno cercato soluzioni di ogni tipo Norris ha girato veramente poco Anche in quel caso Quindi anche il fatto che Ricciardo non sia entrato in pista per Covid Ha dato veramente dei punti di penalità Sì Alla scuderia L'ultimo flop Quello veramente importante Che anche qui molti si aspettavano un salto di qualità Visto il rendimento dell'anno scorso È ovviamente la Aston Martin Aston Martin che parte subito con un tallone da kill Che è quello di Sebastian Vettel Positivo al Covid Non è riuscito a partecipare in Bahrain E nemmeno al Gran Premio di Kedda Veramente un peccato Perché è un team che sfrutta molto questo campione del mondo Al suo posto ovviamente è Nico Hülkenberg Che nonostante la sua esperienza E la sua gran capacità in pista Ha avuto pochissimo tempo per abituarsi a queste nuove vetture Però è riuscito ad essere sempre davanti anche a Stroll Sì Poi prevedo ovviamente che nelle prossime gare Quando ritornerà Sebastian Vettel Non avrà quelle due gare di esperienza in più In questo 2022 Per cercare di essere subito all'altezza Ovviamente Stroll sta faticando tantissimo con questa macchina Addirittura Nico Hülkenberg in diverse occasioni Gli è stato davanti Quindi possiamo capire la differenza Sperando in un buon ritorno di Vettel Che se lo merita devo dire Voglio aggiungere un top in più Alfa Romeo Sì ci stavo pensando anch'io Però soltanto 50 e 50 Perché io direi molto bene Bottas Perché si è ripreso anche quasi una rivincita Su Hamilton, su Mercedes, su chi lo criticava Sempre in top 10 Sia in qualifica che in gara Sempre buoni punti portati su Alfa Romeo Che ricordiamo l'anno scorso era una macchina disastrosa Che ha finito il campionato addirittura Con pochi punti Lo scorso 2021 Un Valtteri Bottas Che si è veramente Trovato molto bene sulla macchina E sta tirando fuori veramente grande potenziale Guanyu Su invece è il nuovo rookie A Inbaren gli è andato abbastanza bene Guanyu Su Perché il doppio ritiro a Red Bull Gli ha consentito il suo primo punto in Formula 1 Invece a Ghedda La situazione si è un po' Ribaltata Nel senso che ha ricevuto tre panelità addirittura Cinque panelità Cinque panelità E poi un drive-thru Quindi è un pilota che ancora deve carburare Una scuderia che mi sta abbastanza impressionando Non tantissimo Ma comunque a buon livello È l'Alpine Perché comunque è una macchina abbastanza competitiva Alonso e Ocon sono piloti veramente straordinari Soprattutto Alonso con la sua grande esperienza Riesce a portare avanti un grande sviluppo E un Alpine che nell'ultimo Gran Premio Si sono un po' ammazzati da soli Devo dire Però hanno comunque In queste due gare La Pink Panther Come dicevamo noi qualche anno fa Sta trovando buoni risultati E dalla prossima gara Ritornerà alla sua Attuale livrea Mettendo a parte appunto Le scuderie Parliamo dei piloti Tra i top Ce ne sono diversi Di nomi importanti Come i due piloti Ferrari I due piloti Red Bull Secondo noi ovviamente Abbiamo aggiunto anche Bottas Si Alla lista Ovviamente Kevin Magnussen Questi due piloti in realtà Ne abbiamo già parlato E anche a nostro parere Abbiamo aggiunto Russell Sì che ovviamente Eravamo un pochettino Scettici Sulla scelta di Russell Però comunque Non ha né deluso Né ovviamente emozionato Però nella situazione Di Mercedes Che adesso Ha fatto diciamo Il compitino Esatto Restando in tema big Possiamo dire che Il grande salto di qualità Lo hanno fatto Le Clerc e Sainz Perché comunque Verstappen era già Abbastanza formato Molto esperto E Perez Che nell'ultimo Grand Prix di Jed Ha tirato fuori Veramente un giro Strepitoso in qualifica I piloti Ferrari Stanno tirando fuori Veramente grande potenziale Grande talento Soprattutto le Clerc Che in queste prime due gare Ha dovuto combattere Estremamente con Max Verstappen Si capirà Più o meno Il tema di tutta la stagione Quale sarà Non so se arriveremo Alla ventitresima gara Con queste gare Stanno esprimendo Grande talento E veramente Sono due piloti Che in questo momento Sono sopra A tutti gli altri Si veramente Stanno correndo Un campionato diverso Nonostante anche Sainz Sia nei top Le Clerc Che completamente Di un altro livello Grande sangue freddo Soprattutto nel Gran Premio Di Ghetta Dove ha lottato Con Verstappen Accanito Hanno dovuto anche Lottare per Prendersi DRS Tra di loro Una cosa Mai vista Cioè Le vedono in Playstation Queste lotte Per non prendersi DRS E devo dire che Tra Verstappen e Leclerc C'è stato anche Tanto rispetto Cosa che l'anno scorso Tra Hamilton e Verstappen Non ce n'era Anche se io aspetterei La fine della stagione Aspettiamo la fine della stagione Perché comunque Quando si arriva Nei momenti caldi Ci si comporta diversamente Esatto Parlando invece di Sainz Gli manca ancora Qualcosina Allo spagnolo Ma comunque Bravissimo Essere sempre lì davanti Ha sfruttato anche L'occasione Dello sbaglio Di Perez Lì anche La Formula 1 La FIA Ha sbagliato A fare forse Qualche calcolo A gestire un po' La situazione Ma comunque Poi gli è stata ridata La posizione Una cosa voglio aggiungere Su Sainz Dimmi se sbaglio È una mia sensazione Io credo Che il Gran Premio Di Guetta Leclerc L'abbia perso Proprio in partenza Perché Sainz La partenza di Leclerc Non è stata brillante No ma Quella di Perez È comunque stata buonissima Sì 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 È vero è vero Però diciamo Che la partenza Non perfetta di Perez Ha un po' rallentato Sainz Si è fatto subito Sul passare da Verstappen E credo che Avere Verstappen dietro Per qualche giro Sarebbe stato molto più utile Poi vabbè Regolamento Non regolamento Il grande Latifi Che fa sempre le sue Safety car Non safety car Forse il Gran Premio Sarebbe comunque finito Con la vittoria di Verstappen Però Sì Oltre a quello Che comunque Ti do Piena ragione Ti dico che Anche nello spezzone Della gara In cui Perez Non ha dovuto dare In regime di safety car La posizione a Sainz L'ha dovuta appunto Concedere Nel giro successivo A gara in corso In quella spezzone Sainz Poteva attaccare Verstappen E quindi Ovviamente Coinvolgere le Clerc Nella vittoria Un po' più facile Tra virgolette E cercare di Infastidire Il pilota Red Bull Ecco Parlando invece Dei flop Abbiamo aggiunto Ovviamente Lewis Hamilton Un po' spiace Perché ti aspettavi Comunque Un ritorno Un ritorno Cattivo Di Hamilton Dopo che è sparito Totalmente dai social Diciamo che abbiamo Già parlato di Hamilton Durante il top Il flop Delle scuderie Un Hamilton Che sta faticando Con questa nuova vettura A Gheb si è notato Tantissimo Il suo disagio Arrivando decimo Nel gran premio Però è stato un po' Sfortunato Anche per conto Riguarda L'entrata Della virtual safety car Con i team Non si sono ancora capiti È un po' Un déjà vu Per il gran premio Di Abu Dhabi Non riuscendo a entrare Quindi non cambiando Le gomme Sì a volte Ha un po' Questa indecisione Con il team Sul fatto che La macchina non vada Che non abbia Proprio grip Sì va sempre in crisi Quando la vettura Non funziona Esatto E in Bahrain Come sappiamo È stato anche Molto fortunato Perché comunque Il podio è derivato Dalla doppietta Dal doppio ritiro Red Bull Sì un altro flop Ovviamente in condivisione È stato quello Di Daniel Ricciardo Che da una parte Lo potrei anche scusare Perché comunque Tra il covid E non potendo Troppo girare Né il primo weekend Né nei test Non è stato Di grande aiuto Al team McLaren Però un Daniel Ricciardo Che non lo vedo sereno Non lo vedo proprio Neanche a suo agio Con la macchina Lo vedo veramente In difficoltà Un calo di prestazione Veramente drastico Sì va bene Che anche la vettura Non aiuta Però è già dall'anno scorso Che Ricciardo Non è Riuscito a trovare Anche un feeling Con la vettura Poi lasciamo stare Che a Monz hanno vinto Per fortuna Hanno avuto Degli sviluppi Sulla power unit Però poi Per il resto dell'anno Ricciardo Non ha mai fatto Grandi cose Drive flop Possiamo dire Anche top Abbiamo aggiunto Ratifi Tifi e Albon Le Williams Quest'anno Si diciamo flop Perché ci si aspettava Anche qui Un piccolo salto di qualità Dopo le prestazioni Dell'anno scorso Con Russell Anche il ritorno di Anche il ritorno di Albon Portato un po' Entusiasmo Portato di entusiasmo Lo ammetto anche Taitop Perché sono i protagonisti Dei gran premi Negli ultimi anni Che cambiano risultati Lì davanti Però Sì La Tifi e Albon Quest'anno Non si vedono Molto Confidenti Con la vettura La situazione economica Comunque non ha aiutato Il team Williams A sviluppare troppo La macchina E spero Che ovviamente I due piloti Non decidano Le prossime gare Di Verstappen E Leclerc Perché comunque O i mondiali In generale Esatto Bene ragazzi Noi crediamo Di concludere qui Non abbiamo Un bel succo De questi primi Due gran premi E dei test Non abbiamo voluto Aggiungere comunque Alfa Tauri O altri team Perché alla fine Sono stati un po' anonimi Un po' molto anonimi Non ci si può neanche dire Molto Il prossimo gran premio Il gran premio D'Australia Si torna finalmente All'Albert Park Che tra l'altro Dopo tanti anni Ma soprattutto Ci saranno tante modifiche Nel stracciato Bene ragazzi Per il momento Ci salutiamo Ci vediamo per il gran premio D'Australia Io sono Luis Io Matteo Siamo Ferrari E Formula 1 La rossa nel core E ci sentiamo sicuramente Molto presto Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.